Io mi impegno a parlare di consenso con i miei amici. Io mi impegno a riflettere sui miei stereotipi. Io mi impegno contro le discriminazioni di genere. Io mi impegno ad insegnare ai miei figli che non esistono sport o lavori da uomo. Io mi impegno per l'equità di genere. Io mi impegno a responsabilizzarci e contrastare la violenza sulle donne. Io mi impegno a denunciare comportamenti violenti e oppressivi. Io mi impegno per una società più inclusiva. Io mi impegno per un linguaggio giusto e inclusivo. Il 43% degli uomini pensa che la violenza contro le donne sia un fenomeno che non lo riguarda. Ognuno e ognuna di noi può fare qualcosa di concreto nel quotidiano per fermare discriminazioni e microaggressioni. La violenza di genere riguarda anche te. Prendiamoci l'impegno di fermarla. Insieme. Il 44% degli uomini pensa che la violenza contro le donne sia un fenomeno che non lo riguarda.